Ben ritrovati, buon Uedì, buon Crypto Monday e buona Pasquetta, infatti quest'oggi nonostante il periodo festivo sono qui comunque a commentare quello che è l'andamento del mercato, questa sarà una settimana molto importante, non si poteva saltare questo appuntamento. Allora partiamo con Coin360.com dove vediamo un buon rialzo perché nonostante sia solo un più 0.43% su BTC e più 3.64% su Ether, comunque sia questa è stata una settimana dove si poteva anche vedere un ribasso vista la depressione di mercato, considerando che le borse sono state chiuse da venerdì e ancora non abbiamo visto una riapertura, poteva esserci un po' di noia, tra virgolette, invece il mercato sta tenendo molto bene. Dopo la chiusura del primo trimestre del 2023 è un andamento positivo che continua, soprattutto questo più 3.62% su ETH è stato molto interessante, abbiamo visto un prezzo di ETH superiore ai 1900 dollari, questo sarà il focus di questa settimana, infatti perché questa è la settimana di Shanghai ed è uno degli eventi più importanti del settore, non si può sottovalutare. Andiamo su CoinMarketCap dove la capitalizzazione del mercato totale supera i 1184 miliardi di dollari con una dominance di Bitcoin al 46.2%, quindi una dominance che si avvicina al 50% dell'intero mercato, ma anche ETH che si alza e si porta verso il 19% proprio in quest'ultima settimana appunto recuperando dei punti percentuali. Andiamo direttamente su Bitcoin, andiamo a vedere le diverse finestre temporali, tutte su breve termine molto positive, infatti vediamo che già quella settimanale è come abbiamo appena visto, è stata una settimana di lateralizzazione ma comunque sta facendo vedere piccole percentuali. A rialzo, se dovessimo prendere quella mensile, il prezzo un mese fa era 20.592 dollari e attualmente ai suoi 28.200, 28.300 dollari abbiamo avuto un mese molto importante, trimestre ancora migliore con un prezzo tre mesi fa 17.469 dollari. Un anno fa il prezzo era più alto del momento, ma non di molto, 42.200 dollari, diciamo che il gap si sta diminuendo rispetto a quella che era la differenza, il differenziale tra quello che è stato il massimo raggiunto e il minimo. In molti, vedendo questi dati, hanno già classificato il bear market come concluso e una fase di inizio di nuovo ciclo rialzista, chissà se sarà così, dobbiamo per forza le cose continuare a seguire. Da inizio anno il prezzo ha avuto praticamente solo crescita, con il primo gennaio che segnava 16.500 dollari e l'attuale prezzo notevolmente più alto. Andando a vedere nel dettaglio quello che succede con l'analisi tecnica, sarò veramente veloce oggi su questo aspetto, coppia BTC-USD su Coinbase, vediamo che il prezzo è andato a lateralizzare come potevamo aspettarci. All'interno di una fascia di prezzo che io continuo a mantenere allargata tra i 25.000 e i 30.000 dollari praticamente, in realtà poi lo spettro sarebbe anche più ristretto, il range sarebbe anche più ristretto. Quello che dobbiamo osservare comunque sono i vari livelli a livello di prezzo. Quindi dopo il Golden Cross la media mobile semplice è andata a alzarsi, seguendo quello che è stato l'andamento di prezzo positivo, e in questo momento segna un supporto ai 25.500 dollari. Mentre invece la resistenza verso l'alto è quella psicologica dei 30.000. Più in basso troviamo il forte supporto dato dalla media mobile semplice degli ultimi 200 giorni a 20.700 dollari, questi sono livelli interessanti da osservare per quanto riguarda Bitcoin e quindi per quanto riguarda anche il mood, il trend generale di mercato. Come detto oggi mi soffermo poco sull'analisi tecnica, un pochino più sull'analisi on-chain e non solo su Bitcoin. Su Bitcoin come sempre vediamo quella che è la situazione per quanto riguarda i vari depositi che continuano ad essere molto bassi sugli exchange centralizzati, infatti il livello è rimasto inferiore al 12%, leggiamo in questo momento 11.86% di tutta la supply, di tutto il circolante in realtà depositato sugli exchange e questo è un dato molto positivo nonostante il rialzo del prezzo. Ma il focus principale lo vedremo poi in analisi on-chain dedicato proprio ad Ethereum, faccio un passaggio poi indietro e qui intanto voglio anticipare prima di tutto che questa settimana sarà importante per due eventi, entrambi arrivano il 12, quindi mercoledì 12 aprile. Quello macroeconomico è legato all'aspetto inflazione che possiamo leggere dai dati che verranno rilasciati come ogni mese qui sul sito bls.gov dove leggeremo il consumer price index del mese di marzo, ossia potremmo avere un resoconto di quella che è stata l'inflazione misurata su questo paniere, quindi una sorta di standard. Adesso nonostante questo paniere non sia comprensivo di tante altre cose che magari vorremmo vedere all'interno per misurare davvero come si sta muovendo l'inflazione, comunque sia possiamo paragonarlo con quello che è stato il mese precedente o l'anno precedente, essendo questi dati comunque rimasti questi. Quindi il CPI che verrà rilasciato il 12 ci farà capire, nonostante la grande difficoltà del settore bancario e il continuo rialzo dei tassi di interesse, come effettivamente poi al contempo stia reagendo l'inflazione, quindi quella che è la svalutazione della moneta, in questo caso del dollaro. E' importante capirlo perché bisogna capire quanto tempo ancora ci vorrà per l'inflazione per diminuire, perché anche se appunto andasse a diminuire ed è attesa una diminuzione, dovremmo capire con che rate, a che velocità questa diminuzione si andrà a riscontrare, perché dobbiamo capire quanto tempo questa situazione si potrebbe prolungare per portare il livello al 2%, un livello che al momento è al 6% nonostante l'importante rialzo dei tassi di interesse, perché se i tassi continuano a crescere in questo modo o comunque non possono essere riabbassati e non si può stampare nuovo denaro, ricordando che non c'è mai una stampa reale ma una creazione di nuova liquidità, a quel punto il sistema economico è pronto per entrare in una recessione che porterebbe a rischio il settore della produzione e del lavoro e a quel punto se l'inflazione non si è riportata su livelli accettabili avremo una situazione in cui da un lato c'è depressione e dall'altro non si può andare a incentivare o a sostenere quel tipo di mercato, di economia, perché l'inflazione altrimenti ne risentirebbe ulteriormente e andrebbe a svalutare ulteriormente la moneta. Siamo in un momento abbastanza critico che va letto tramite questi aggiornamenti che arrivano ogni mese e che portano poi delle conseguenze anche a livello decisionale per quanto riguarda politica monetaria e rialzi dei tassi, che ormai è diventata l'unica manovra fattibile in quanto, ripeto, non si può andare a creare altro denaro e non si può bruciare denaro come si fa nel burning ad esempio di monete o token oppure l'altra alternativa potrebbe essere quella di andare ad alzare le tasse ma anche questa non credo sia una soluzione che i politici in questa fase storica potrebbero promuovere senza ovviamente risentirne a livello mediatico e a livello personale perché poi la situazione non è delle più rose e non siamo in un momento di esplosione economica. Chiusa questa parentesi andiamo nell'altro evento che è quello legato al settore perché questa settimana arriva l'aggiornamento Shanghai. Vi ricordo che ho seguito questo aggiornamento su diversi step creando una playlist su YouTube dedicata a questo argomento. Quindi ho spiegato tutto quello che riguarda Shanghai dall'introduzione a come affrontare questi passaggi fino ad arrivare alle cose più pratiche come ad esempio mettere in staking ETH anche se si hanno meno di 32 Ether su diverse soluzioni e providers anche analizzando quelle che saranno le future evoluzioni di questi providers come liquid staking providers. Il prossimo aggiornamento arriverà proprio mercoledì in cui rilascerò un breve tutorial su come fare queste cose tramite Metamask. Una cosa davvero semplice e veloce. Quindi vi consiglio di guardare questa playlist. In ogni caso quello che succederà è che da mercoledì sarà possibile prelevare gli Ether messi sulla beacon chain, sul consensus layer. Infatti questi due, l'execution layer e il consensus layer, i due layer creati su Ethereum, andranno in qualche modo ad essere davvero uniti questa volta tramite un aggiornamento e questo aggiornamento porterà il prelievo, porterà la possibilità di prelievo degli Ether sull'execution layer, sul layer in cui noi facciamo tutte le transazioni in cui noi operiamo. E questo vedrà due opzioni, il prelievo parziale e il prelievo completo. Il prelievo parziale è un qualcosa che si abilita ma poi arriva in modo automatico, ossia tutti gli Ether in eccesso rispetto ai 32 di ogni validatore andranno ad essere prelevati e ce li ritroveremo in automatico sul nostro wallet, sul nostro address. Infatti, vediamo un po' di dati. Qui se andiamo su beacon chain, vediamo che al momento ci sono 462.965 validatori attivi sulla blockchain di Ethereum con 18 milioni di Ether messi in staking. La media di ogni validatore è avere 34.01 ETH. Questa è una media molto interessante perché da qui capiamo che circa 2 ETH su ogni validatore, quindi su 562.000, saranno prelevabili e si troveranno negli indirizzi. Questo perché lo sto dicendo? Per avere delle stime su quello che potrà essere l'impatto che avrà questo aggiornamento anche a livello di mercato. Perché 2 ETH per 562.000 saranno più o meno gli ETH che, non tutti insieme, ma nel giro di poco tempo, potrebbero essere riversati sul mercato. Mentre un pochino di più ci vorrà per vedere i prelievi totali, ossia quelli che coinvolgono 32 ETH. Cioè chi proprio va a smontare, tra virgolette, il proprio validatore, magari perché vuole cambiare la sua disposizione, la sua allocazione o vuole vendere. Questi ci vorrà un po' di più, nel senso che è un'operazione che richiede tecnicamente un pochino più di tempo, non che non sia fattibile da Shanghai in poi, dal 12 in poi sarà fattibile anche questo. E anche questi verranno comunque calcolati nel conteggio dei vari ETH che si potrebbero potenzialmente trovare sul mercato. Detto ciò, qualcuno potrebbe aspettarsi che quindi questa sia una sorta di bomba ad orologeria che potrebbe andare ad impattare in modo negativo il prezzo di ETH. In realtà, in molti pensano, me compreso, che questo verrà compensato, quantomeno nel medio-lungo termine, da tutti coloro che invece vedendo un derisking su questo asset, ossia adesso gli ETH messi staking, possono essere prelevati in qualsiasi momento e quindi saranno più incentivati a depositarne più che venderne. Anche perché il ritorno attuale è interessante, coinvolge un circa 3-4% di ritorno nativo, poi con diverse funzionalità che ho fatto vedere durante i miei video, si possono raggiungere anche percentuali di ritorno annuale più alto, sempre in ETH fino al 7%, in modo più o meno sicuro e questo diventa molto interessante anche per figure, ad esempio, istituzionali che fino a questo momento si vedevano tagliate fuori perché senza la possibilità di poter prelevare, senza una data certa su questo, ovviamente erano alla finestra e non erano comunque incentivati a farlo. Quindi, detto ciò, ho fatto anche un video dedicato proprio a quella che potrebbe essere una previsione post-Shangai e vi rimando perché poi a quel video, proprio perché è all'interno di questa playlist, facevo tutte le analisi, sono abbastanza lunghe e quindi ho preferito fare un video dedicato. Se siete interessati a sapere qual è la mia previsione a seguito di Shanghai, anche sul mercato, andate a vedere quel video. La cosa interessante è capire che questo è un momento che porterà sicuramente dell'interesse, della volatilità di breve termine, perché qualcuno che poi venderà a ridosso ci sarà, però ci saranno anche tanti che approfitteranno magari di questo ribasso o di questa vendita per comprare e mettere in staking. Quindi probabilmente le due cose si andranno anche a compensare. Lo vedremo, comunque interessante andare ad analizzare questi aspetti e andiamo a fare due ragionamenti. Uno è quello legato alle analisi on-chain attuali, quindi questo è un aggiornamento attuale di quello che possiamo trovare. Qui su Glassnode possiamo vedere sia la media appunto dei bilanci su ogni validatore, che come visto è attorno ai 34. È andata in crescita perché? Perché non c'erano i prelievi parziali e quindi ogni nodo validatore andava solamente ad accumulare TH senza la possibilità di poter muovere quegli TH dal consensus layer all'execution layer. Quindi ogni validatore, a parte quelli che hanno subito degli slashing importanti, sono andati ad accumulare più TH rispetto a quelli che avevano messo, che erano 32 all'inizio. Qui possiamo vedere un conteggio dei validatori attivi, che comunque è stato un trend in crescita continua. Adesso un pochino si è rallentato rispetto alla crescita che c'è stata in altre fasi, soprattutto nella fase in cui si è dichiarato, si è annunciato l'arrivo di Shanghai, ma comunque se andiamo ad osservare la linea è una crescita costante di nuovi validatori. Abbiamo anche la possibilità di vedere gli eventi di slashing, sono arrivati in diversi momenti. C'è stato poi un momento particolare qui il 23 settembre quasi all'inizio, in cui c'è stato un conteggio molto elevato, ma solitamente lo slashing è molto molto piccolo, arriva ogni tanto su diverse situazioni. Altro lato importante è vedere il bilancio totale degli TH messi in staking, che è ancora una percentuale molto piccola, inferiore al 15% di tutta la supply, quindi parliamo di 18 milioni. Quello che in molti si aspettano, ripeto, me compreso, è vedere questa percentuale incrementale adesso che arriverà a Shanghai, quindi probabilmente dal 15% ci si porterà nel medio e lungo termine verso percentuali più alte dei depositi, magari verso la metà di tutti gli TH messi in staking, nel giro di qualche anno, e a quel punto tutta la liquidità e il circolante sarà non solo a livello di mercato più stabile, più sicuro, ma proprio la rete sarà più sicura perché più difficile da attaccare, in quanto il costo di attacco andrà ad aumentare a livello economico. È tutto un sistema e una teoria dei giochi studiata proprio attorno a questo aggiornamento, che è, l'ho detto più volte, l'aggiornamento più importante a livello tecnologico che abbiamo visto nello scorso anno, in arrivo a settembre, ma questo secondo passaggio che lo andrà a concludere è poi la parte che andrà a caratterizzare il settore nei prossimi mesi, quindi sarebbe veramente stupido non considerare questo evento se si è interessati a questo settore, perché è la cosa davvero più importante in arrivo. Quindi ripeto, attenzione, perché adesso arriverà a un periodo probabilmente a ridosso di volatilità elevata, volatilità sul prezzo di Ether, ma anche di questo, poi ne discutevamo anche nella scorsa live con Filippo Angeloni, c'è una soluzione, ci sono delle soluzioni, anche perché proprio degli strumenti che nascono nativi in DeFi permettono di mitigare questa volatilità se non eliminarla del tutto. Quindi, ad esempio, use cases come quelli proposti su Metaswap, da cui è stato riusciato anche questo articolo proprio legato ai prelievi parziali, si possono utilizzare degli strumenti nativi su finanza decentralizzata proprio per andare a eliminare la volatilità del prezzo e in queste fasi sono molto interessanti perché potrebbero portare non solo una copertura ma addirittura dei profitti. Cioè si possono aprire delle posizioni da edging, da copertura, e se il prezzo ci viene contro, la nostra copertura finanziaria ci va a pagare un premio e questo appunto va a compensare lo squilibrio che c'è, lo sbilanciamento e la volatilità che c'è sul prezzo. Questo è un caso studio per quanto riguarda i prelievi parziali. Nella scorsa settimana sul blog ufficiale di Metaswap è stato rilasciato anche il caso studio sui prelievi totali e come proteggere le proprie posizioni proprio in questo caso. Qui è spiegato proprio come funziona il prelievo totale, come spiegavo anch'io nel mio video, e poi come poter gestire la volatilità di questa casistica tramite una posizione in edging con un target size che fa coprire appunto i 34 ETH che abbiamo visto essere la media dei vari validatori in modo tale da non avere rischi e avere una copertura che magari può durare un mese o circa due mesi. Su questo contesto, grazie alle reward che vengono accumulate dallo sticking, in parte queste reward possono essere utilizzate per una copertura finanziaria e a quel punto si elimina il rischio volatilità e si ha un ritorno garantito. Ovviamente c'è sempre il rischio tecnologico sia del layer 1 che dell'applicazione decentralizzata di turno, in questo caso gli smart contract su Metaswap, ma è a questo appunto che servono queste applicazioni decentralizzate. Rimanendo su questa tematica è uscito anche un recap di tutto quello che è stato fatto nel mese di marzo per quanto riguarda Metaswap. Sono arrivati due importanti aggiornamenti lato user interface, è arrivata la possibilità di interfacciare più wallet con l'applicazione decentralizzata, quindi l'abilitazione del multi wallet, e in più è arrivata la versione mobile degli AgingSwap. Si possono abire posizioni di copertura come quelle di cui ho appena parlato, anche da mobile, connettendo un wallet mobile e poi aprendo delle posizioni su Ethereum, Bitcoin e Oro fino a questo momento. In più un piccolo spoiler su quelle che sono poi miglioramenti a livello di bridging e a livello di governance perché è in arrivo finalmente il forum di discussione e in più le soluzioni di scalabilità che è il prossimo tema di cui voglio parlare perché voglio parlare di optimism, voglio parlare anche di proto-dunk sharding perché questa è una cosa che arriverà subito al ridosso di Shanghai e in pochi hanno ben compreso. Breve recap per chi avesse seguito il video di aggiornamento legato proprio alla sintesi della mappa concentrale su Metaswap sono arrivate queste due funzionalità che sono state adesso colorate nel colore del loro ramo, quindi legate al user interface, arrivata alla DAP in versione mobile e appunto il multi wallet. Adesso voglio parlare di ottimizzazione e di come l'efficienza può essere migliorata grazie al roll up optimistic. Infatti l'eip 4844 porterà una soluzione di scalabilità molto molto interessante che andrà a diminuire le fee dei roll up e andrà a portare una innovazione che in passato definivamo sharding. Probabilmente lo sharding su Ethereum non sarà più necessario con queste integrazioni qui perché questa sorta di risoluzione di transazioni tramite i blob è un qualcosa di molto simile ma avverrà sul layer 2. Il protodunk sharding che forse avete già sentito nominare introdurrà questo concetto di blobs che verranno accettati come gruppi di transazioni e porteranno la capacità dei roll up a crescere di 100 volte. Praticamente stiamo per entrare in una nuova fase dell'infrastruttura di base che porterà oltre ai prelievi anche un enorme miglioramento a livello di efficienza. Ovviamente la cosa più importante era tenere il layer sicuro e decentralizzato e aumentarne la decentralizzazione. Probabilmente con la possibilità di poter prelevare aumenteranno anche i depositi e aumenteranno anche le soluzioni che offriranno i vari depositi su Ethereum e in più con questa risoluzione aumenterà in modo incredibile l'efficienza dei layer 2 perché con questa ottimizzazione a livello roll up tutte le varie dApp che poi si stanno sviluppando sul layer 2 avranno un'efficienza maggiorata di due scale quindi non solo di un 10x ma addirittura di un 100x e lo stiamo per vedere nel giro di poco. Quindi potrebbe essere l'inizio di una nuova primavera per quanto riguarda tutto il settore perché qualcuno potrebbe pensare che questa cosa è poco interessante visto che in molti sono focalizzati su delle cose settoriali del tipo a me interessa solo Bitcoin o a me interessa solamente una determinata moneta o un determinato token. Sbagliato ragionare in questo modo perché abbiamo visto di come questo settore si muova per trend e quando parte un grande trend, pensiamo al trend degli NFT, al trend della DeFi, agli altri trend di questa tipologia bene o male tutto il mercato poi ne va a risentire e qui ne sta per partire un altro perché questa innovazione sarà l'infa vitale per la DeFi, porterà un'efficienza incredibile e quindi tutte quelle applicazioni decentralizzate che prevalentemente si muovono in questo momento sull'ottica finanziaria quindi anche da derivati proprio come Metalswap avranno un impatto molto positivo da questi aggiornamenti che riporteranno nuovo interesse, nuovo utilizzo che si propagerà non solo sul settore non solo limitato ai roll up per quanto riguarda Ethereum o Ethereum stesso ma poi potrebbe far partire un nuovo andamento che magari in tanti ricercano a livello di mercato e banalmente c'è questa ricerca della alt season che poi va a essere ricercata magari su grafici ma i grafici non possono prevedere questi aspetti, questi aspetti solitamente arrivano sempre a seguito di situazioni e cambiamenti fondamentali della tecnologia e quindi questa analisi fondamentale che vi sto facendo è quella che poi porterà probabilmente anche una conseguenza su quelli che sono i prezzi e gli andamenti delle varie monete. Spero che questo quadro possa essere un po' più chiaro anche se non è semplicissimo fare una lettura di questo tipo. E parlando di layer 2 c'è anche una novità al lato Arbitrum perché? Perché su Arbitrum dopo la disputa che è avvenuta la settimana scorsa riguardo della prima proposal da parte della DAO per allocare un certo quantitativo di ARB proprio alla foundation cosa che già era stata fatta ma poi appunto come raccontavo è stata respinta dalla votazione della DAO stessa e quindi ha creato su buio, la community e la DAO ha cercato tramite fondazione di aggiustare un po' il tiro mettendo una nuova proposal che andasse ad includere dei low cap quindi il vesting per questi token e più trasparenza anche andando a dire che quei token magari non potevano essere utilizzati per il voto nonostante questo la community si è mossa è partita un'altra proposal che è questa qui dove l'IP 1.05 chiede di far tornare i 700 milioni di ARB dalla foundation alla treasury della DAO questo perché proprio la situazione ancora non si è proprio raffreddata qui vediamo la votazione in tempo reale dove a favore c'è poco più del 50% con 21 milioni di ARB che hanno votato e contro il 48.01 con un po' di astensione ricordo che anche Arbitrum è una tecnologia che si basa su roll up optimistic e quindi andrà ad essere interessata dall'aggiornamento protodunk sharding di cui vi parlavo comunque questa è una situazione molto molto interessante a livello politico se vogliamo che sta avvenendo e come questo settore sta praticamente affrontando queste situazioni qui che poi tanti altri progetti e protocolli vedranno e questi saranno dei casi studio che verranno analizzati proprio da tutto ciò che arriva in futuro la cosa interessante di tutte queste cose di cui sto parlando è che tutto avviene in modo non custodial o quantomeno così dovrebbe essere non sto parlando di situazioni legate a servizi centralizzati quando ho parlato dello staking di Ethereum ad esempio c'è anche lo staking sui exchange centralizzati come Kraken, come Coinbase ma come abbiamo visto soprattutto nel 2022 e quello che dovremmo portarci a casa dal 2022 è quantomeno capire che questo settore va preso come una lezione per imparare ad essere responsabili di quello che abbiamo e a gestire quello che abbiamo che siano monete o che siano token il miglior modo per poter gestire questi tipi di asset è probabilmente un hardware wallet non ho mai nascosto la mia sponsorizzazione verso Ledger sin dagli inizi di questo canale probabilmente questa è la soluzione più importante che c'è sul settore per poter avere una custodia personale di quello che possediamo dei nostri asset digitali da Bitcoin a Ethereum ai vari token su Ethereum in questo momento c'è una promozione attiva su Ledger con il riconoscimento di 30 dollari in Bitcoin se si compra un Ledger Nano X e 20 dollari in Bitcoin se si compra un Ledger Nano S tramite il link che vi metto in descrizione che è il mio referral link praticamente come funziona? si compra il Ledger qui ufficialmente da link dallo shop ufficiale Ledger attenzione a farlo da altre parti perché potrebbe essere a rischio si riceve all'interno della confezione una card fisica dove c'è un codice che poi si può inserire su Ledger Live che è il software che gestisce il wallet e vengono subito accreditati sul nostro indirizzo che andiamo a generare tramite il Ledger stesso l'equivalente di 30 o 20 dollari in Bitcoin come cashback è una promozione molto interessante che in precedenza ha creato tanto movimento e ve lo lascio è una promozione che durerà solamente fino al 18 aprile quindi hanno deciso di farla in concomitanza con questo periodo di Pasqua mi muovo su Bitcoin perché c'è una cosa interessante che tra l'altro parlando di Pasqua torna appunto in mente è quella di vedere questa sorta di easter egg sui vari Mac infatti si è scoperto che all'interno dei nuovi Mac questa è stata una cosa scoperta da Andy Baio sul suo blog ha rivelato che c'è la possibilità di trovare il whitepaper di Bitcoin in formato bdf in ogni Mac l'ho fatto vedere tramite una short ve lo faccio vedere anche adesso direttamente qui nel Crypto Monday si può aprire questo file tramite questo comando a terminale e eccolo qui e si apre direttamente il whitepaper di Satoshi Nakamoto se non avevate mai visto questo file questo documento è il momento di leggerlo perché in realtà è proprio da qui che si dovrebbe partire per capire di cosa stiamo parlando in questo settore se non avevate idea appunto di quale fosse il primo passo beh è facile è questo qui e se avete un Mac basta copiare e incollare questo comando e iniziare il vostro percorso cosa molto molto carina e molto interessante che sta facendo il giro del web rimango a parlare di Bitcoin visto che oggi il Crypto Monday è stato molto focalizzato anche sugli sviluppi in ottica layer 2 il layer 2 più importante di Bitcoin ossia quello della Lightning Network che sembra essere di interesse anche di Coinbase Coinbase che poco tempo fa sempre rimanendo su Optimistic Rollup si era attivata per introdurre una forma di roll up per avviare un roll up su Ethereum quindi un layer 2 su Ethereum chiamato Base che si basa sempre su Optimism adesso sembra rispondere tramite Armstrong il suo fondatore a delle provocazioni da parte del mondo Bitcoin a riguardo del layer 2 più importante su Bitcoin infatti da questo tweet leggiamo è strano di come Brian Armstrong è molto attivo nell'ignorare Bitcoin Lightning Network non ha mai twittato di questo neanche una volta Armstrong risponde che i suoi tweet vengono cancellati in modo automatico dopo un po' di mesi quindi non c'è possibilità di trovarne nella search history però Lightning è molto interessante è qualcosa, è grande scrive è qualcosa che andremo ad integrare quindi andranno probabilmente a farlo tramite Coinbase unendosi a un altro gruppetto che poi è quello di Bitfinex, Kraken e OKEx che già hanno integrato questa funzionalità nei propri exchange centralizzati spero ad oggi sia molto chiara la differenza di quello che sto dicendo adesso rispetto a quello di cui ho parlato nel resto di questo video ossia soluzioni centralizzate come servizi di questo tipo con un CEO, quindi delle aziende in questo caso anche un'azienda quotata in borsa rispetto a delle soluzioni decentralizzate poi più o meno decentralizzate comunque sulla strada della decentralizzazione che magari spesso vengono governate da DAO e non hanno un riferimento con delle società o non hanno dei CEO che rispondono in questo modo qui a nome di una società stessa sono situazioni del tutto diverse e in altri contesti l'integrazione può essere fatta da chiunque non ci deve essere un CEO che deve approvare o no determinati tipi di movimenti ma magari la DAO che le propone rimanendo in ottica centralizzata anzi centralizzatissima una cosa e un caso della scorsa settimana è stato quello di vedere Elon Musk che va a proseguire il suo percorso di meme o di giochi con il suo nuovo giocattolo ossia Twitter cambiando l'icona di uno dei social network più importanti e più utilizzati al mondo con quella di Dodge e infatti abbiamo visto anche uno spike molto importante sulla moneta stessa sulla meme coin stessa sul mercato a seguito di questa cosa e diversi tweet del CEO stesso come ad esempio questo qui oppure il ricordare di una vecchia promessa come quello che è stato postato tramite quest'altro tweet prosegue quindi questo percorso tra amore e scherzo su Dodge Coin in ogni caso in parallelo due giorni prima Elon Musk tramite i suoi avvocati ha chiesto ai giudici di rimuovere la causa da 250 miliardi di dollari che era stata portata avanti da alcuni investitori accusando appunto Elon Musk di aver manipolato il mercato proponendo uno schema piramidale per promuovere Dodge Coin e lui con questo tipo di azioni cerca anche di riportare l'attenzione su queste cose difendendo il suo operato dicendo che fare meme o tweet di questo tipo non può essere in alcun modo collegato a una manipolazione di mercato in ogni caso poi c'è tutto un lavoro legale che sta portando avanti il suo team appunto legale insomma settimana che si prospetta molto molto interessante sicuramente mercoledì è il fulcro di questa settimana con l'arrivo di Shanghai con l'arrivo dei dati sull'inflazione ne commenteremo live su CoinSquare come ogni mercoledì mercoledì alle 18.30 detto ciò per questo Crypto Monday e questa Pasquetta è tutto per il prossimo ci troviamo lunedì buon proseguimento di settimana ciao a tutti Grazie a tutti